Ciao a tutti, bentrovati, spero siete bene oggi. Io sono Stefania, sono un'insegnante di yoga certificata e una massaggiatrice qui ad Amsterdam. Oggi parliamo di Salambas Shirsasana, la verticale sulla testa, per rispondere a una domanda di Francesca. Mi chiedi, potresti fare un video di approfondimento dedicato unicamente a Shirsasana? Sarebbe interessante approfondire questa posizione anche dal punto di vista anatomico e avere qualche spunto in più su come riuscire ad entrare nella posizione. Io sto provando a fare Shirsasana da un paio di mesi e spesso mi accorgo, tramite video che mi faccio, che una volta che stendo le gambe nella posizione, tendo a tenere le gambe non in linea con il resto del corpo, ma più avanti. Per capirci, il sedere va indietro portando le gambe a non essere perfettamente in linea con le spalle. Nonostante questo, la mia percezione, prima di vedere il video, è quella di essere dritta. Penso che per risolvere questo problema io debba cercare di tenere il bacino più retroverso, attivando meglio gluti e gambe. Tu che ne pensi? Ciao Francesca e grazie per questo commento e questa domanda interessante. Andrò a risponderti spiegandoti la posizione così come la sto spiegando al Yoga Teacher Training che sto facendo qua ad Amsterdam, quindi al corso di formazione insegnanti che sto facendo qui ad Amsterdam, con studenti che stanno appunto frequentando il corso che la cui maggior parte non è in grado di fare ancora la verticale sulla testa. Alcuni ci sono riusciti, adesso il corso di formazione insegnante è iniziato già a ottobre e alcuni ci sono riusciti insomma venendo le mie classi, li ho un po' aiutati, quindi sono già riusciti, ma diciamo che il loro corpo era già pronto. E da quello che mi dici tu, il tuo corpo probabilmente è già pronto per fare la posizione, mantenere la maniera stabile con un respiro insomma approfondito e essendo anche tutto allineato così come vorresti insomma essere dritta. Tu, tuttavia è difficile ovviamente poter aiutare così, senza vedere il tuo corpo, quindi conoscere un po' di più, un po' meglio come funziona la tua anatomia e soprattutto senza poterti assistere e farti capire anche tramite il tatto dove sei, nello spazio e cosa attivare meglio. Però facciamo il nostro meglio così attraverso il video, l'invito ovviamente è sempre poi di cercare magari un insegnante di yoga e andare alle lezioni e vedere insomma di essere magari aiutati fisicamente in questo senso. Quindi cominciamo dal nome, Salamba Shershasana, a volte viene solo chiamato Shershasana e a volte la pronuncia è anche diversa, però Salamba è un pezzo importante perché vuol dire supporto, Shersha è poi la testa e Asana è la posizione, quindi posizione di verticale sulla testa. E' supportata, è supportata perché il peso corporeo non è tutto sulla testa ma è anche sulle braccia e sulle spalle, tutto il corpo in realtà è attivo e quindi anche i glutei, per esempio gli addominali come Francesca stessa menziona, sono appunto attivi. Incominciamo quindi dall'anatomia. Sì, un po' del peso corporeo è sulla testa, il che vuol dire che i muscoli, quelli un po' più profondi del collo, sono attivi, stanno lavorando. Quindi questi muscoli possono cambiare, nel senso la loro attivazione può cambiare da persona a persona perché dipende sin da subito dalla vera base della posizione che è la testa. Cioè se tu metti il peso corporeo più sulla fontanella, sulla sommità della testa, quello che in inglese io chiamo crown of the head, la corona della testa, avrai il collo in una certa posizione. Cioè proprio le vertebre della zona cervicale della tua spina dorsale saranno in una certa posizione, quindi certi muscoli dovranno essere attivi di modo tale da tenere il collo senza che te lo spacchi. Non che te lo spacchi, ma insomma che ti fai male. Alcune altre persone però per la loro anatomia, per la loro conformazione, anche proprio per la sensibilità delle ossa, mettono il loro peso più davanti, quindi un 2-3 centimetri più in avanti, verso la fronte. E di conseguenza la posizione del collo sarà diversa, i muscoli che vengono anche attivati saranno diversi. Comunque, in generale ti metto qua qualche immagine sui muscoli che tendenzialmente vengono attivati. Tuttavia, come menzionavo prima, il peso del corpo non è tanto sulla testa, sì la testa è a terra e quindi parte del peso sarà lì per forza, però se non vuoi rischiare di avere mal di testa, proprio nel senso di emicrane. Ma anche male alla testa, nel senso di, non la sensibilità che abbiamo qua sulla testa, e non solo, ma ancora più importante, per non farci male a queste vertebre delicate della nostra zona cervicale, ebbene il peso corporeo deve essere più supportato dalle tue braccia e dalle tue spalle. In particolare i tricipiti sono attivi, questi muscoli qua, tu considera che abbiamo i bicipiti qua davanti, i tricipiti qua dietro, e loro sono muscoli antagonisti e si complementano a vicenda. Quindi se io faccio questo, il mio bicipite si contrae, il tricipite si sta strecciando, allungando. Viceversa, se invece faccio questo, sto estendendo ed allungando, strecciando il mio bicipite, e sto invece ingaggiando, contraendo il mio tricipite. Quindi nella verticale della testa, sulla testa, il tricipite qua dietro è bello attivo, perché questo ti aiuta ad evitare di incassarti nelle spalle e di muoverti troppo in avanti con il peso corporeo, di modo tale da mantenere, insomma, i gomiti a 90 gradi, anziché iniziare a fare questo tipo di posizione, cioè tu vuoi rimanere in questa posizione, anziché iniziare a spostarti così. Quindi il tricipite deve resistere questo movimento e quindi viene attivato. Questo non vuol dire che il bicipite sia lì, che è in estensione a strecciarsi, il bicipite comunque è un po' attivo. Deltoidi sono attivi e poi si passa un po' più in alto, verso la zona delle spalle. Un muscolo importante è qua, il serratus anterior, infraspinatus, che è quella specie di muscolo a triangolo un po' profondo nella fossetta dove ci sono le scapole. Quelli ti servono perché se tu inizi a fare retrazione delle spalle ti insacchi col collo, altra cosa che poi ti fa venire male, quindi non lo vogliamo. Cerchiamo di mantenere le scapole un po' più in protrazione. Cerchiamo di spingere il corpo lontano dal pavimento con il supporto che abbiamo sulle braccia. Tu avrai il lato esterno delle mani a terra, parte degli abbracci soprattutto sul lato esterno, ma anche lì dipende un po' da come poi schiaccino il braccio a terra. I gomiti, o almeno parte dei gomiti che premono il pavimento lontano da te, e quello è un po' il tuo supporto. Quindi tu devi immaginare che stai premendo il pavimento lontano da te, così eviti di incassarti ed eviti di farti male alla testa. Questa è la vera base, diciamo, quindi iniziare a premere il pavimento lontano da te, così tanto che addirittura la sommità della testa potrebbe staccarsi da terra, potrebbe sollevarsi. La riponiamo giù, ma manteniamo con l'attivazione nel nostro braccio e nelle nostre spalle. Proseguendo diciamo con l'anatomia, i tuoi muscoli abdominali, quindi tutto il retto addominale, è attivo. Se non lo attivi, inizi ad avere un po' la forma, diciamo, a banana nella tua schiena, il che ti può mettere fuori equilibrio, ti può far cadere all'indietro, tendenzialmente. E infatti quelli che sono un po' più avanzati, che vogliono fare praticamente dalla verticale sulla testa a cadere poi in una specie di ponte sugli avambracci, iniziano ad inarcare la schiena, che sarebbe estensione della spina dorsale. Quindi fanno un backbend, piegano le ginocchia e lasciano andare poi i piedi a terra, possibilmente con controllo, per portarsi poi a terra. Tuttavia, se tu ti vuoi mantenere su dritta, soprattutto se vuoi appunto fare la verticale così che sembri dritta nelle video che poi guardi, i tuoi muscoli abdominali devono essere attivi. Cioè tu ti devi immaginare che uno arrivi e ti dia un pugno nella pancia. Cosa faresti? Non staresti lì così? Ah sì, tutta aperta, no? Fai questo, giusto? Adesso lascia stare un movimento nelle spalle, ma quello che avviene qui nella zona addominale è che tu lo contrai per attivare la forza e resistere quindi al pugno. Quindi un po' per proteggerti, ma proprio anche per resistere il colpo e quindi proteggere i tuoi organi interni. Quindi immaginati che qualcuno ti voglia dare un pugno in pancia quando sei upside down, sotto sopra, e cerca di attivare i tuoi muscoli abdominali. Un'altra immagine magari un po' più gradevole è semplicemente di pensare a portare l'ombelico in dentro, come quando vuoi risucchiare la pancia, come quelli che vedi al mare che vogliono farsi la foto, non vogliono che la panzetta sporga. Ecco, l'ombelico che va in dentro e in alto, verso il diaframma, verso il petto. Questo però non vuol dire che tu stai mantenendo il respiro come appunto fanno quelli quando si fanno la foto al mare, no, cioè devi poter comunque respirare magari con il respiro già e se stai facendo la classica pratica, o comunque con un respiro regolare, quindi non trattenere il respiro, è solo il movimento di contrazione, detto muscolo abdominale, di conseguenza l'ombelico che si sposta, in qualche modo, quindi anche il pavimento pelvico sarà attivato, se stiamo parlando di banda, se se ne sai qualcosa, hai il mula banda nel pavimento pelvico, ma anche l'udiana banda nella zona appunto del plesso solare. Bene, procediamo con altri muscoli, insomma, vai verso i glutei. I glutei sono attivi, questo non vuol dire che non li devi stringere troppo, però una buona immagine potrebbe essere che hai una matita in mezzo alle chiacque e la stai stringendo. Questo perché ti aiuta a mantenere le gambe dritte e attive e a stare un po' più in linea con il corpo, che è quello che stai cercando tu. Allo stesso tempo i tuoi muscoli quadricipiti sono attivi soprattutto se appunto vuoi mantenere le gambe dritte e soprattutto se fletti i piedi, in questo modo, quindi li avrai paralleli al pavimento, con la caviglia flessa a 90 gradi, ecco, i quadricipiti saranno attivi. Se punti i piedi verso l'alto saranno attivi anche i tuoi polpacci, nella parte inferiore della tua gamba. I bicipiti femorali o hamstrings, come li chiamiamo in inglese, che sono qua, loro anche sono attivi. Seppre per mantenere le gambe attive e in alto. I bicipiti femorali devono anche essere lavorati, nel senso di essere flessibili. Se manchi di flessibilità nei bicipiti femorali, è difficile salire su nella verticale sulla testa, soprattutto se vuoi mantenere le gambe dritte e portarti poi su con le gambe dritte. Yoga aiuta in quello, perché insomma ci sono così tanti piegamenti in avanti che vanno appunto a strecciare ed allungare i bicipiti femorali, che insomma, se pratichi regolarmente, prima o poi, sì, i bicipiti femorali saranno più flessibili. L'altra cosa che ti serve è la mobilità nel bacino. Cioè tu devi essere in grado di fare, come tu stessa dici Francesca, la retroversione del bacino. Cioè devi poter essere in grado di fare questo movimento, diciamo, basculante del bacino. Io infatti vedo tanti studenti maschi che sono pronti per fare la posizione in termini di forza nelle braccia, perché li vedo fare durante la pratica chaturanga, la panca, posizione di bilanciamento sulle braccia, tipo la posizione del corvo, no, bakhasana, senza nessun problema, c'è neanche un po' di shaking, niente. E poi invece li vedi appunto che cercano di fare shirshasana e dici... Come mai? Perché non riescono a muovere sto bacino? Quindi fanno molta fatica e iniziano a cercare di saltare, anziché appunto fare questo tilt delle anche. E quindi, insomma, the struggle is real, come dicono in inglese, no, la fanno fatica. Lì anche se yoga ti aiuta a sviluppare la mobilità nel bacino, certo è che se nessuno ti spiega cosa vuol dire mobilizzare il bacino e quindi tu tutti i piegamenti in avanti continui a farli in questo modo, non svilupperai molta mobilità nel bacino, devi cercare di sbloccare questa zona qui. E quindi l'insegnante si deve mettere lì e non solo assisterti, perché qualcuno magari anche ricevendo questo tipo di assisting, di aiuto fisico da parte dell'insegnante non capiscono effettivamente che cosa devono fare e quindi non migliorano mai in quel senso lì. Ti devi mettere lì uno a uno e spiegarli e cercare di magari dargli dei compiti a casa di modo tale che effettivamente la mobilità nel bacino arrivi. E quindi per esempio, anziché stare qua così, gli chiederai di sedersi su un supporto, sull'angolo, di piegare un po' le ginocchia e cercare di farle fare più questo movimento per potersi portare avanti. E così iniziano a sviluppare la mobilità nel bacino, cosa che possono fare tranquillamente anche da in piedi facendo questi tipi di esercizi. E quello è il punto di partenza un po' per come entrare nella posizione, lo vediamo tra un attimo. Una cosa che ci tengo a dire adesso è cerchiamo di imparare sin da subito a fare questo tilt, anche questa retroversione del bacino, poter muovere insomma il bacino, e di attivare gli addominali e di spingere con le braccia. Queste tre cose qua sono fondamentali perché così eviti di imparare la posizione semplicemente saltando, che se salti così a muzzo, se non hai il muro dietro probabilmente poi caschi, da un lato o di dietro, insomma comunque caschi, e c'è rischio comunque di sovraccaricare uno, due, tre, queste vertebre qua sul collo. Quindi non lo sponsorizzo, se riesci a imparare sin da subito a entrare nella posizione senza saltare, meglio. Per entrare senza saltare ti serve forza negli addominali, flessibilità dei bicipiti femorali e questo tilt dell'anca. L'altra cosa che dicevo di importante è l'attivazione degli addominali, quindi impariamo si da subito a far lavorare questi addominali, non impararla come ho fatto io con questa forma a banana, perché la verticale sulla testa tutto sommato riesce ancora insomma a stare su e senza farti male, anche se sei un pochettino a banana, quindi anche se gli addominali si sono attivi ma non troppo. Il problema è che se tu impari questa posizione così, quando poi ti muovi magari cimentare in versioni più avanzate della stessa Shirshasana, o provare altri tipi di inversione, per esempio Pinchamayurasana, comunque la verticale sugli avambracci, quindi senza la testa che tocca a terra. Se vuoi fare la verticale sulle mani e questi insomma tipi di esercizi, di posizioni, ecco lì è importantissimo invece che ci sia proprio questa attivazione addominale, questo ombelicono in dentro o in alto, perché altrimenti se tieni la forma a banana, quelle posizioni lì non ti verranno mai. Cadi e comunque poi ti fai male, quindi no. Cerchiamo di imparare sin da subito anche questa cosa qua, di attivare gli addominali. E la terza cosa che dicevo, cerchiamo di imparare sin da subito di spingere il pavimento lontano da noi, attivando bene questi muscoli delle braccia e delle spalle, così da evitare di incassarci e quindi di farci male poi al collo. Perché succede se lo fai una volta, due, magari niente, o magari sei un po' così di male alla testa che il giorno dopo è passato, però se continui, sai, magari pratichi regolarmente due o tre volte a settimana e continui a fare queste musizioni così, alla lunga sto collo poi ti fa male anche in maniera seria e poi devi andare a farti vedere da un professionista, da un medico. Quindi mi raccomando anche questa cosa qui, terzo aspetto importante. Già che siamo qui, ti dico anche quali potrebbero essere così, i possibili benefici di questa posizione qui, perché dobbiamo fare questa posizione di qualche beneficio. Cioè questa è una domanda che ti potresti fare, che è validissima per qualsiasi posizione, onestamente, di yoga. Cioè la posizione del triangolo è di beneficio o qualcosa? Devi sempre vedere effettivamente cosa avviene nel corpo. Sta di fatto che qualsiasi tipo di posizione di yoga, incluso shir shasana, può essere modificata da altri tipi di movimenti e posizioni che ti daranno gli stessi benefici. Quindi è necessario farlo? No, puoi trovare altre posizioni e altri movimenti in altre discipline o semplicemente muovendo il tuo corpo in un certo modo che ti darà gli stessi benefici. Uno dei benefici possibili che effettivamente è lì con shir shasana e che siccome la gravità ti mette, è invertita, sei sottosopra, aiuta un po' il ritorno della circolazione verso la parte inferiore del nostro corpo, quindi le gambe e i piedi, perché tu di solito sei così, in questa posizione, o da in piedi o da sedute, quindi i piedi stanno laggiù in basso, quando sei sottosopra ovviamente vale il contrario, quindi il ritorno del sangue è facilitato in quel senso. Questo non vuol dire, come alcuni dicono, non c'è nessuna evidenza, almeno non ho riscontrato nessuna evidenza, nel senso di ricerche, che ci sia effettivamente il flusso sanguigno di più che va verso la testa, perché il nostro corpo si adatta, non è stupido, e ti esploderebbe la testa altrimenti. Sì, magari c'è un po' di aumento della pressione sanguigna, ma questo non vuol dire che c'è più sangue che va alla testa. La cosa anche connessa a questo è che viene solito sconsigliato di fare shiru shasana, così come altre inversioni, alle donne quando hanno il ciclo. Sta un po' a te, nel senso che se tu sei abituata a praticare shiru shasana, perché è una pratica regolare di yoga, e pratichi regolamente questa posizione qui, anche durante il tuo ciclo, non ci sono problemi. soprattutto se stai quei 5-10 respiri, non in tanti, stanno lì 5 minuti in shiru shasana, onestamente. È più, magari lo schifo, se hai un ciclo molto abbondante, ma a parte quello, non è che il sangue inizia a uscirti dal naso. Se passi tanto tempo effettivamente in inversioni, potrebbe essere, ad alcuni lo fa, a me per esempio lo fa, ti si rallenta un po' il flusso, o magari quasi si ferma per, non lo so, mezz'ora, così, e poi riprende. L'altro beneficio che fa un po' da drenaggio linfatico, di sicuro non come se vai a farti fare un massaggio da un professionista, un massaggio linfatico, da un professionista che magari usa anche, sai, quelle macchine che servono appunto all'uopo. E in questo senso anche il fatto di invertire, no, il senso della gravità, e quindi darti quel senso di leggerezza, di aiuto, di ritorno della circolazione, eccetera, le gambe, anche lì non è che ti serve shiru shasana. Cioè, ti metti con le gambe a, muro, non sdraiata per terra, con le gambe su al muro, anche se lo supportate da due, tre cuscinoni, è fatta, è la stessa, ha lo stesso effetto, no, a modi in yoga. Il terzo beneficio che di solito viene riportato è l'inversione del diaframma. Anche lì, insomma, non c'è bisogno di avere shiru shasana per poter avere quella sensazione, per esempio, se ti metti sul divano, con le gambe sul divano, e poi ti lascia andare, no, in giù. Se il divano, insomma, non è proprio bassissimo, è lo stesso tipo di effetto. Oppure, se vai in palestra, ci sono le pull-up bars, sai, non le barre dove la gente fa i pull-ups, ti metti con le gambe lì, lasci il resto del corpo che scende, e hai lo stesso effetto. Detto ciò, andiamo al, come entrare effettivamente nella posizione. Forse è meglio se, anziché fare il video, e poi mettere la mia voce sotto, te lo faccio vedere direttamente in diretta. Mi vedi da lì? sì. Allora, la prima cosa che io invito gli studenti a fare è, intanto, un bel warm-up del corpo, quindi tu dici adesso tu non hai fatto nessun warm-up, non dovresti neanche dimostrarlo. Esatto, e invece lo faccio lo stesso. E perché è così? È così la vita dell'insegnante di yoga. Però tu, sì, fattelo un bel warm-up per preparare il corpo, soprattutto le spalle, che siano comunque calde, ma anche, come abbiamo detto fino adesso, i bicipiti femorali, che siano un po' strecciati, che hai fatto un po' di questo basculamento del bacino. Oppure farti una generale pratica di yoga, insomma, più o meno hai tutto ciò che ti serve per la posizione. Dopodiché, ci portiamo a quattro zampe, mettendo gli avambracci a terra. La distanza tra le braccia è individuale, cioè cambia da persona a persona, quindi io non ti posso dire 20 centimetri, 15, 25, ti metti giù, da la posizione del tavolo, lascia andare gli avambracci a terra, e poi con la mano vai al gomito opposto. Al gomito opposto, non così, al gomito, come se te lo volessi acchiappare, ok? Quindi non qua, questo non è il gomito, è ancora l'avambraccio, anche se lo sfiori con le ditina. Questo è il gomito, acchiappati il gomito. Ti tieni quello, e rilasci gli avambracci. Quindi non così e poi non è servito niente. Quindi lasciali, e fai i pivot. Lascia andare gli avambracci a terra, e intrecci le mani. Alcuni intrecciano anche i pollici, altri li lasciano liberi. state. Come dicevo prima, io incoraggio ad andare con la sommità della testa a terra, e il retro della testa supportato dalle mani. Ma alcuni, appunto, andranno un po' più in avanti, verso la fronte. State. Quindi lascerai il microfono farà quello che vuole. Aspetta, fammelo mettere qua. Spero che si senta. Quindi, mettimelo qua. Sommità della terra a terra, sommità della testa a terra, retro su, che sono portato dalle mani. Allora, farò uno zoom, da lì, sì, farò uno zoom, per farti vedere. Io adesso sono qua just chilling, come dicono gli inglesi, cioè non sto facendo un tubo con le mie braccia. Quello che invece voglio fare è che le attivo. Ti faccio vedere magari così. Con la maglietta, così anche se i miei muscoli sono piccolini, secondo me riesci a capire la differenza. Cioè, così non sto facendo una mazza. Sto mettendo tutto il peso corporeo sulla mia testa. Adesso guardo bene i muscoli nelle mie braccia, cosa fanno. Hai visto che sono attivati? Adesso sono attivi, guarda che li rilasso. Li attivo, quindi si contraggono, dovresti poter vedere che effettivamente si contraggono, non solo, anche proprio la posizione nel mio collo, nelle mie spalle, cambia. Quindi, questa è la prima cosa che andiamo a fare. Dopodiché, manteniamo questa attivazione nelle braccia, non la lasciamo, puntiamo i piedi a terra e stendiamo le gambe. Qui ti fa già vedere se c'è flessibilità nelle gambe, in particolare nei bicipiti femorali. Perché se qualcuno deve stare qui per avere le gambe estese, vuol dire molto probabilmente che manca la flessibilità nei bicipiti femorali. E sarà difficile per questa persona poter andare nella posizione, perché ha i piedi lontanissimi, come li porti su. Difficile. Quindi, in questi casi qui, anziché insistere a mantenere questa posizione che è un po' come la posizione del delfino con la testa a terra, cerchiamo di piegare le ginocchia. Non importa, le manteniamo piegate fino a che non riusciremo ad avere le gambe più estese. questo vuol dire che se le gambe piegate non ci sono tantissimi modi per salire su. Quello che suggerirei io è camminare. Camminare i piedi di modo tale da fare quello spostamento del bacino. Quindi, se sei per esempio qui, io ti chiederò invece di mettere le ginocchia a terra come se fossi nella posizione del tavolo, puntare i piedi e sollevare le ginocchia solo un pochettino e poi di camminare i piedi. Lo stesso vale in realtà se puoi estendere completamente le gambe e avere magari anche i talloni a terra se fossi riscaldata abbastanza. Cammino. Cammino per poter spostare, ti faccio magari una zoom adesso invece più su la parte del sedere, per appunto spostare il sedere indietro. Questo tu lo vuoi? Francesca, che tu mi dici che vedi nel tuo video che il sedere indietro? È una cosa in realtà che ti serve avere il sedere che ti va indietro per poter sollevare effettivamente le gambe perché quello che stiamo cercando di fare praticamente è di utilizzare il nostro corpo come le due parti della bilancia. Cioè da una parte c'è la parte alta del tuo corpo, quindi il tuo tronco, le tue spalle, la tua testa e dall'altra ci sono le tue gambe che devono salire. Quello che fa sì praticamente che tu sposti l'ago della bilancia è proprio questa parte qui il tuo baricentro dove ci sono le tue anche quindi quando tu inizi a spostare il sedere in indietro le gambe si staccano da terra. Per alcuni magari con le gambe estese se c'è appunto la flessibilità nei bicipiti femorali se c'è un buon basculamento del bacino se c'è un po' di attivazione degli addominali le gambe si spostano su direttamente estese. Per altri questo non avviene quindi manterranno le ginocchia piegate ma comunque è sempre lo stesso meccanismo. In questo senso il Shirshasana effettivamente non richiede tantissimissima forza ed è anche il motivo per cui effettivamente viene spesso insegnata nelle lezioni di Vinyasa Yoga perché è un po' più accessibile rispetto ad altre in versioni un po' più difficili e più veramente imparare la tecnica più che essere super forti. Quindi cerchiamo sin da subito di fare spostare effettivamente il sedere in indietro. C'è tutto il tempo poi una volta che iniziamo a portare le gambe sempre più su per raddrizzare fare questa retroversione del bacino di modo tale da raddrizzarci e essere poi effettivamente tutti allineati in una linea. Non ti preoccupare se non sei tutto in una linea se comunque i muscoli sono attivi tendenzialmente non ci sono grossi problemi o rischi di infortuni. Quello che più che altro capita è che se hai effettivamente il sedere un po' più indietro quindi le gambe che vanno più verso a terra dal tuo punto di partenza che probabilmente dovrai ingaggiare un po' di più alcuni muscoli in particolare gli addominali per evitare che i piedi ricaschino a terra nel punto di partenza mentre se tu riesci a metterti tutto in una linea effettivamente in inglese dicono stacking e quindi allineare tutte quante le articolazioni le caviglie con le ginocchia le ginocchia con le tue anche le anche alle spalle e le spalle ai gomiti effettivamente è un po' più facile stare poi su nella posizione perché è tutto supportato è come una torre con tutti i mattoncini tutti allineati ed è più facile effettivamente stare su magari poi con i canonici due o tre minuti 20-30 respiri mentre diventa un po' più difficile e la gente lo fa anche di proposito per fare una specie di workout o comunque per cimentare la propria forza e fare un po' di challenge una sfida personale lo fanno di proposito iniziare a spostare il baricentro e quindi giocare con dove metto il sedere dove metto le gambe piegare per esempio le ginocchia per portare i piedi più verso terra ma comunque ancora stare su senza cadere in ponte quindi non è necessariamente una cosa sbagliata ma capisco che magari tu ricerchi l'allineamento per poter magari stare per esempio un po' di più su e adesso vediamo come possiamo farlo quindi ci riportiamo nella nostra posizione di partenza una volta che ci siamo portati così abbiamo capito che possiamo fare andare il sedere anche un po' più indietro nessun problema allora per alcuni appunto le gambe si staccano così dritte per alcuni questo non avviene quindi quello che io consiglio di fare come vi ho detto prima non saltiamo no pieghiamo un ginocchio attenzione quando pieghi il ginocchio e lo dico agli studenti quello che loro fanno è questo perché loro pensano no? è così sono già più in alto no? ho già una gamba con la destra che è già estesa il problema è che se tu fai questo avvengono due cose non so se noti ma la mia anca destra e il mio ginocchio destro sono aperti verso destra no? c'è un'apertura un'esterna rotazione della mia anca destra quindi inizio a puntare a destra e questo mi mette già fuori dall'equilibrio perché inizio a pendere un po' a sinistra punto primo punto secondo vedi quando inizio a piegare il ginocchio il piede destro vedi che casca indietro se io adesso mi salto no? mi do una spinta così con ogni probabilità se non lo faccio con controllo e chi è in quella posizione lì a zero controllo e quindi si fa si dà una spinta madornale se ha il muro dietro col piede quello in alto il mio era quello destro toccherà il muro e se veramente si dà un sacco di spinta con ogni probabilità riceve una spinta contraria dal muro e casca o a terra con entrambi i piedi o di lato a sinistra perché ti ricordo che appunto era aperto a destra altrimenti se non hai il muro dietro con ogni probabilità casca nel senso tipo a ponte oppure si rannicchia casca da un lato probabilmente il sinistro in questo caso oppure se ci sono io dietro che gli sto aiutando da dietro mi colpisce in faccia quindi quello che io faccio è che gli prendo il piede lo metto giù e gli faccio tenere il ginocchio vicino agli addominali non contrando più gli addominali mantenere il ginocchio più vicino alla pancia gli chiedo di contrarre gli addominali e lo aiuto fisicamente per fargli capire che cosa intendo perché a volte semplicemente dicendoglielo non capiscono sono già lì insomma semi impanicati la loro percezione corporee magari non è proprio on point soprattutto quando sono sotto sopra quindi capisco che magari semplicemente dirli non aiuta e quindi gli aiuto fisicamente quindi quello che vogliamo fare non è questo quindi ne apro ma manco se sono un po' più dritta non questo ma questo più tu stai compatto vicino alla tua zona mediana al tuo baricentro più in realtà è facile perché quando inizi tu a estendere i limbs dicono in inglese i tuoi arti in questo caso le gambe immaginate se fossi sulla verticale sulle mani se fossi anche qui quindi più estendi ti estendi lontano dal tuo baricentro è più difficile stare in equilibrio l'altro piede è sulle ditina qui per alcuni se io sono dietro semplicemente con le mani così faccio un piccolo e loro spostano il peso corporeo quindi il peso si solleva altrimenti se tu non hai nessuno o ti dai una piccola spinta cosa che non raccomando oppure continui a basculare con sto sedere spingi più contrae di più con gli addominali e pieghi l'altro ginocchio bene per alcuni dobbiamo stare lì è inutile cercare di estendere le gambe perché appunto ti porta fuori dall'equilibrio ti porta più lontano dalla tua zona mediana dal tuo baricentro e ti mette fuori dall'equilibrio lo so che non è italiano ma lo sto trascendo dall'inglese perché sono te insegnano inglese ma so che hai capito quindi niente stiamo lì con le ginocchia piegate lì per esempio ti invito Francesca ti fai il video ottimo metodo tra l'altro per imparare effettivamente come fare le cose guardandoti ecco lì ti invito a tenere le ginocchia vicino alla pancia contraendo gli addominali e a giocare con la basculazione del bacino e vedere effettivamente che cosa cambia con o senza il muro dietro insomma a seconda se il muro dietro non ti avvicinare troppo al muro è solo per perché così capisci se il sedere ha toccato il muro quindi quanto sei andato effettivamente indietro con il sedere quindi quello è un buon modo per iniziare a lavorare diciamo sulla basculazione del bacino a capire effettivamente dove stanno le mie chiappe rispettano al resto del corpo è più difficile se lo fai una volta che le gambe estese adesso vediamo come andare su una linea ti sei portato nella posizione siamo qua quando inizi ad estendere le gambe magari ti ritrovi adesso io non lo so se sto facendo esattamente quello che tu mi descrivi penso se ho capito bene il sedere indietro e quindi le gambe non completamente dritte e qui stringi le chiappe attivi di più i glutei attivi di più gli addominali non andare nella forma banana continui a mantenere le braccia attive o punti o fletti i piedi la seconda adesso metodi per capire sto attivando le mie gambe ti servirebbe probabilmente un aiutante qualcuno a casa che ti piazza un blocco in mezzo alle gambe lo puoi fare anche tu nel senso se hai abbastanza forza puoi salire nella posizione direttamente con il blocco tra le gambe ma non è facilissimo quindi ti consiglierei invece di avere qualcuno che una volta che ti sei portato su in verticale con il muro dietro di te se è magari la prima volta che lo fai o con l'aiutante dietro di te e ti fai piazzare il blocco in mezzo alle gambe se te lo fai piazzare puoi tenerlo anche qua quello che vuoi fare cioè perché sto usando il blocco per due motivi uno attivare gli adduttori questi muscoli interno coscia qua dentro e attivare le gambe in generale i glutei i quadricipiti in questo modo quello che avviene e adesso lo sto quasi lasciando perché appunto non lo sto attivando ma se voglio premere sto blocco con ogni priorità fai quella retroversione del bacino che effettivamente tu stessa hai capito essere probabilmente la soluzione per essere un po' più dritta se non hai l'aiutante puoi provare a salire con il blocco tra le gambe ma è complesso non è facilissimo è abbastanza avanzata come 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 transizione lo metti tra i polpacci e poi provi a salire ovviamente qui puoi sì piegare le ginocchia ma con ogni priorità sarebbe meglio se invece fai un'altra transizione in su che di pull-in direi in inglese uno strisci i piedi e inizi a portarli in su non ho i pantaloni adatti che strisciano tutti vabbè però insomma per tenere le gambe attive aspetta che sto mi sto denudando ma hai capito se avessi qualcuno vicino a te sarebbe più facile perché ti fai mettere il blocco lì un'altra cosa da considerare è che a seconda della tua anatomia la forma il disegno da fuori che tu vedi in un video o in una foto di shir shasana potrebbe essere diversa da quella che vedi fare a qualcun altro per esempio io comunque ho un po' di scogliosi quindi la mia shir shasana non è proprio drittissima soprattutto se mi vedi quando ho solo il top quindi si vedono bene proprio le vertebre si vedono tu lo vedi che io non sono proprio dritta quindi anche le mie gambe i piedi per esempio non sono alla stessa altezza se tu tracciassi delle linee parallele al pavimento vedresti che io non sono completamente dritta e tanto più altre che magari hanno problemi alla spina dorsale o magari un tilt nelle anche più a destra o a sinistra vedrai che per quanto loro cerchino di stare dritti e stanno attivando tutti i muscoli in maniera top al top e non saranno comunque dritti quindi consideriamo anche questi aspetti qua ecco quando tu vai a rivedere il video non ti fissare troppo aspetta traccio con il righello 90 gradi aia sono un po' più così no va bene così è probabilmente semplicemente la tua anatomia mentre per il fatto che il sedere è un po' più indietro e le gambe sono un po' più in avanti quella è veramente cercare di stringere un po' di più i glutei fare questa retroversione del bacino ma mantenere mi raccomando gli abdominali attivi di modo tale poi da evitare di cadere cerca di mantenere le ginocchia anche dritte diciamo senza piegare se tu inizi a piegare le ginocchia e metti i piedi all'indietro quella è una variazione un po' più avanzata perché richiede che tu continui a mantenere il tuo senso di equilibrio questo stacking delle varie articolazioni per evitare di cascare in ponte questa variazione qui la facciamo vedere quindi subito è una delle variazioni per avanzati questa variazione che ti dico è che tu ti porti su e poi inizi a piegare un ginocchio o due un'altra variazione potrebbe essere intrecciare le caviglie un'altra variazione potrebbe essere come si chiama garudasana le gambe dell'aquila qualcosa in questo in questo modo altre variazioni sono non variazioni nelle gambe ma variazioni nelle braccia e quindi per esempio una potrebbe essere aprire le braccia a B potrebbe essere il treppiede tripod che va a lavorare sui muscoli leggermente diversi hai la testa a terra le mani e fai questa specie di triangolo ti porti con le ginocchia sui gomiti o sulla parte superiore delle braccia e poi ti porti nella nella posizione di per sé alcuni questi lo usano per esempio come transazione per andare direttamente in chaturanga alcuni usano la transizione da bakasana dalla posizione del corvo e entrano poi nel treppiede altri fanno il treppiede da prasarita padottanasana quindi da il piegamento in avanti con le gambe dei varecate per poi portarsi o mantenendo la posizione così divaricata delle gambe oppure raddrizzando le gambe adesso non ho spazio tra me ma penso hai capito modifiche 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 per coloro che sono ancora all'inizio o principianti si pratica pure con il muro io non sono contro il muro non so che ci sono alcuni insegnanti che dicono ah se impari col muro non ti staccherai mai non so io ho imparato sia shishasana che pincia ma yurasana col muro dietro e poi mi sono staccata dal muro quando i miei muscoli erano pronti per sopportarmi quindi non lo so non ho riscontrato questo attaccamento diciamo al muro e così come per esempio i blocchi yoga ecco quando mi sono serviti per alcune posizioni le ho usate e poi quando non mi sono più serviti perché c'era abbastanza mobilità nel mio corpo non ho avuto nessun problema diciamo a rilasciare i blocchi e nel momento in cui invece per esempio quel giorno mi dovessero servire perché boh non lo so mi sto recuperando l'infortuna o cose del genere riuso i blocchi ecco quindi non ho non ho diciamo nessuna versione verso i supporti e penso sia bene incoraggiare i studenti che una volta che sono pronti ecco a staccarsi dal muro piuttosto che dai blocchi ma all'inizio va benissimo lavorarci insieme e per esempio una delle prime cose che potresti fare per avere questo senso di essere sotto sopra lavorare iniziare a lavorare sui muscoli che ti sono richiesti ma senza fare i tentativi di saltare o se comunque sei particolarmente spaventato ebbene vai con il muro guarda il muro quindi non dare le spalle al muro ma guarda il muro fammi spostare mi vedi da qua sì guardi il muro ti metti nella posizione sulle braccia e andrai con le gambe a 90 gradi con i piedi che toccano il muro fammelo dimostrare ti metti nella posizione con il tuo braccio ti sollevi estendendo le gambe come puoi non importa se non sono completamente stese e poi cammini cammini i piedi sul muro praticamente premi i piedi al muro e qui ecco si vede di nuovo se hai questa forma banana invece cerchiamo di fare un po' di retroversione del bacino quindi va bene anche come esercizio per Francesca se vuole provare questa retroversione del bacino stringere un po' di più le chiappe stringere un po' di più i muscoli addominali torni giù semplicemente camminando i piedi verso terra quindi questa è una prima variazione per sperimentare di essere sotto sopra sperimentare che i muscoli della braccia siano attivi i muscoli addominali la mobilità nel bacino senza però ecco avere la paura di cadere perché se con le gambe al muro decidi tu anche quanto salire su con i piedi quindi magari all'inizio le gambe non sono completamente parallele al pavimento magari sono un po' più verso terra va bene ci riproviamo ci riproviamo fino a che magari iniziamo ad averli a 90 gradi se non sai dove sei nello spazio perché non ti vedi fai come Francesca mettiti col cellulare e fatti un mini video non registrare per un'ora perché poi ti occupa tutto lo spazio sul cellulare quindi ti metti un attimo lì provi stacchi la registrazione guardi un attimo e poi ci riprovi perché questo potrebbe darti come dire una visuale di come sei messo nello spazio una volta fatto questo ti senti un po' più pronto a provare la posizione quindi dici vabbè la provo con il muro dietro va bene però non ti attaccare al muro per quello che vedo in classe nel quale dico se avete bisogno di un muro andate pure altrimenti state sul tappetino fate un gesto che vengo io da voi e vi aiuto e faccio io da muro praticamente ebbene quando vanno al muro spesso si attaccano proprio al muro quindi con le mani sono praticamente così sullo zoccolino del muro sei troppo vicino proprio per questo motivo che spero adesso ti sia capito che per salire tu su devi fare questa oscillazione del sedere che va indietro per spostare le gambe in avanti quindi se tu sei attaccato al muro già con le mani e quindi le spalle saranno praticamente attaccate al muro non c'è spazio per il tuo sedere perché il tuo sedere dovrebbe andare dentro il muro per poter sollevare poi le gambe quindi cosa facciamo ci stacchiamo un pochettino dal muro questo è quello semplicemente che faccio in studio cioè quindi vado da loro e gli chiedo di spostarsi una spanna un po' di più dal muro così loro si sentono comunque la sicurezza di avere il muro dietro in qualche maniera lo toccano col piede per esempio se è una volta che hanno sparato le gambe su però intanto non si sfraccellano con la testa al muro e soprattutto hanno lo spazio per poter fare questa oscillazione con il bacino e portare quindi il sedere oltre le spalle indietro a casa magari hai anche la possibilità di farti una specie di supporto io qua te lo faccio vedere perché è proprio dell'altezza giusta con un puff questo praticamente mi farà da supporto per le mie spalle per il retro delle mie spalle magari insomma parte della schiena allo stesso tempo io mi sento tranquilla perché se so che vado oltre che perdo un po' l'equilibrio i miei piedi toccheranno il muro ma mi dà lo spazio perché più o meno qua finirà il mio sedere quindi ho lo spazio per poter far finire il sedere indietro verso il muro oltre le mie spalle fammelo dimostrare mi metto qui bene io sono qua vicino e quindi ho il supporto delle spalle cioè proprio tocco spero che vedi ma vedi che col sedere posso andare oltre sì e sono tranquilla perché qui è anche difficile cadere onestamente perché mi sta proprio supportando il questo puff alto così com'è ma se proprio anche dovessi andare troppo posso toccare il muro dietro di me con i piedi no cioè qualcuno farà qualcosa di questo tipo presumo e da qui hai la possibilità vedi hai tutto lo shape così la forma banana hai la possibilità di iniziare a raddrizzarti un po' di più e il problema di usare il muro è che quando sei qui è difficilissimo iniziare a contrarre gli addominali per portarti effettivamente in linea cioè io lo posso fare perché sono sono abituata ma se il tuo problema effettivamente è di attivare gli addominali se tu usi il muro e ti attacchi con i piedi al muro e sei lì hai sì l'effetto dell'inversione ma non imparerai mai ad attivare gli addominali di conseguenza poter staccare effettivamente le gambe dal muro stare bene allineato e di conseguenza ti sarà difficilissimo poter poi provare la posizione sul tappetino perché cadresti fondamentalmente e quindi quando gli studenti usano il muro per esempio stanno lì io vado lì e li faccio lavorare nel senso che ovviamente glielo chiedo se loro vogliono semplicemente stare lì per farsi l'inversione va bene però onestamente a quel punto gli dico senti mettiti con la schiena a muro i piedi su e fatti questa di inversione magari con un bolster sotto le le spalle fatti questa di inversione se proprio vuoi altrimenti se invece sei lì che usi il muro perché hai paura di cadere ma vorresti effettivamente poter fare la posizione come si deve allora quello che io faccio è che vengo vicino a loro così gli faccio da altro muro cioè metto una mano qui gli chiedo di attivare gli faccio proprio così ghiri ghiri alla pancia gli dico di attivare queste addominali e gli aiuto a capire dove poi sono dritti mettendo la mia mano qui facendoli quindi toccare le gambe al mio braccio e gli dico adesso sei dritto la senti l'attivazione dei tuoi addominali la senti le senti in glutei le chiappe che lavorano così sei dritto cerca di mantenere e lì se appunto ho il blocco disponibile metto anche il blocco in mezzo alle gambe per far sentire ancora di più questa attivazione di addominali glutei quadricipiti bicipiti femorali quindi mi raccomando se sei un principiante e ti usi il muro non stare poi solo lì tanto per cerca comunque di iniziare a staccarti facendo questa attivazione degli addominali è difficile mi riconosco e questo è il motivo per cui in realtà anziché semplicemente saltare così al muro e attaccarti con i piedi al muro utilizzano pure dietro di te come supporto diciamo emotivo ma non tirare su ste gambe e attaccare i piedi a terra usa il muro dietro di te ma fammelo dimostrare da qua ma piega le ginocchia concentrati nel fare basculare anche per portare il sedere indietro e mantieni queste ginocchia attaccate alla pancia con gli addominali ben saldi fammelo dimostrare così anche con un muro dietro quindi tu avrai il muro dietro non ti attaccare troppo vicino al muro devi avere lo spazio per il sedere quindi qualche centimetro quanti saranno qua una ventina di centimetri così il muro è lì come supporto emotivo come supporto emotivo in teoria cerchi di non toccarlo sollevi le gambe come puoi magari per qualcuno è così non le puoi tenere tutte stese non importa piegali non saltare cammina cammina i piedi verso i tuoi gomiti arrivi a un punto in cui non puoi più fare niente lì vedi sposti il sedere indietro quando arrivi al tuo limite piega il ginocchio ti ricordo non alzare il piede il ginocchio vicino alla pancia fatti un video per vedere se stai facendo sta roba qua questo non ti serve a niente qui vicino ai tuoi addominali col piede vicino al sedere come se ti volessi dare un calcio al sedere così stai qui e poi vedi se riesci a sollevare l'altro piegando l'altro ginocchio magari perdi un po' l'equilibrio il sedere toccherà il muro farà qualcosa di questo tipo sono troppo abituata a farlo non riesco a fare quello che fanno gli studenti cosa faranno così toccano con il piede oppure puff e toccano col sedere da qui spingi spingi con i piedi spingi con i piedi ti porti un po' più dritto e da qui la possibilità di lavorare con un ginocchio di nuovo andiamo vicino agli addominali li stringo il piede vicino al sedere porto l'altro giù perdo un nuovo l'equilibrio puff il sedere tocca terra scusa tocca il muro lo rifaccio spingo con i piedi sono un po' più dritta contraggio gli addominali il ginocchio vicino alla pancia il piede vicino al sedere porto anche l'altro e sto questa cosa qui ti è molto più utile che da qui ti dai la spinta tocchi e stai qua così tutto storto non serve a niente bene spero che questo video ti sia stato utile se hai delle altre domande bene spero di aver suscitato altri dubbi un interesse magari nel scoprire come effettivamente tu sei messo nello spazio a farti questo mini video magari anche studiare qualcosa di anatomia perché no lavorare appunto su fare le cose con calma step by step anziché precipitarci saltando sul muro cerchiamo di lavorare invece sulla forma sulla qualità sull'avere un respiro che è lì non che trattengo il respiro e poi provare e riprovare così come tutte le altre cose che abbiamo imparato a fare durante la nostra vita non siamo nati imparati alcuni magari hanno un talento verso alcune cose ma tendenzialmente ci dobbiamo lavorare anche se abbiamo un talento dobbiamo comunque lavorarci per poter raffinare determinate cose e shir shasana non è esente dalla pratica mi raccomando abbi fiducia in te stesso fai delle ricerche fai delle prove fatti dei video per cercare di capire chiedi aiuto puoi chiedere aiuto sicuramente anche all'amico però forse sarebbe meglio chiedere l'aiuto di qualcuno che ne sa un po' di più un fitness trainer o un esedente di yoga certamente insomma qualcuno che ha un po' più di understanding della cosa soprattutto che vede magari tanti corpi di tipo diverso e quindi ti sa aiutare anche in maniera un po' più specifica come sempre prendi cura di te e continua a praticare ci vediamo alla prossima ciao ciao